Il video di un'altra parte, di un'altra parte, di un'altra parte. Grazie a tutti. 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 No, ma le braghe le ho anche sportano. Non mi danno il tempo neanche di fermarmi a fare due riprese, questi bastardi. Uno deve avere un po' di meno. Grazie a tutti. Un po' di meno. 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 Un po' di meno.